Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Nioh 2 Bene, ho fatto quello scenario, vi ricordate che mancava un Kodama ed è proprio all'inizio, non l'avevo proprio visto Laggiù c'è il santuario, hanno fatto tutto il giro per salire qui sul tetto e poi scendere qua perché il Kodama era qua Se ci si accende da qui, eccolo qua, l'abbiamo fatto, ah non me l'aspettavo sicuro Non lo sapevo, non l'avevo proprio visto E quindi adesso vado avanti, lo finisco per conto mio e ci vediamo nel prossimo video Se riesco a fare quello che nell'episodio precedente a questo ci mancavano due Kodama Se non andiamo avanti, quindi a dopo Bene ragazzi ho finito, faccio questa e poi vediamo di fare quella che ci manca di Kodama Adesso vedo, ci raggiorno su, intanto facciamo questa e vediamo come va E speriamo che non sia un altro dungeon o un altro boss Anche se ormai non ci spero poco, però vediamo Magari un danno, magari un... eh sì, col cazzo Porca miseria, sarà un casino, vero? Sì ma se prendiamo le mosche tutte e due, arriviamo un po' coltane Eh sì sì, sarà molto dura Mi ha tolto già tutto Ok Eh cavolo Ma non è per la velocità, è per il chi che ha C'erano tutti quanti sempre più di me, è incredibile Io non ho mai capito perché Devono avere sempre tutti questi pochi, questo... che cavolo Ecco qua, facciamo così Piccolo vantaggio Cosa fai? Ma cosa fai? Non si fa così, guarda, si fa così, guarda Ok Adesso? No, però non è giusto, eh Non mi tirare i cani Cioè, i puma, gli uomini, che cazzo sono Cioè, sei attività, sì Migerica, si è estruso Ok Vabbè, questo com'è però, eh Cioè, una montagna non si è spostata di un millimetro Vabbè, adesso com'è però Un casino fatto e basta Ah, porca miseria, ha un bel dito in culo questo post Provevo a fare il contattaccio Ma come lo faccio il contattaccio? Su cosa? Eh, accidenti To Proviamo questo vantaggio Magari Ok C'ho provato, eh Desimate, insomma Ecco qui Ho detto io che ero un cararmato, questo coso Eh, sì Niente più? Ok Ok, è andata grassa Come lo sapevo che facevi qualcosa di simile Ok, cerchiamo di non usare tutto il ki Perché questo ci farà il culo sicuro Eh, sì, no Poi Ma che cosmo favone Ah, cambia Sdrenato Sì, tocca a me però, eh Che miseria Mi sono lasciato scappare un'occasione Non d'oro Il platino Ah, che cazzo Sì, no Niente più, no Vuoi tirarmi anche la fiera della nonna? Ah, che cavolo Ovviamente Sì, ma che cavolo Sì Come no Sì Sì Mi faranno impazzire Questi mob O sti boschi Cazzo Sti sconti Insomma Salve signor Grazie dello sconto Sto po' gentile Grazie, grazie Proprio mi sono sbaccarato Chio È un altro È un altro Cosmo favore Ci danno È un altro Non è che il mondo è un po' di più短e, ma non è così. Ma non è mai vero, non è vero, ma non è vero. Faccio il rio, oltre le fanno, oltre le fanno. Ma non è vero, non è vero. e vediamo posseduti da questo coso vediamo dopo come va se è meglio del nostro 124 mila unità pochissime ormai ce ne sono più di 100 mila per livellare allora ci hai dato la danza del ventaglio infettato picciore hai tenuto sagittura astrale sufficiente per sbloccare alcune abilità metamorfo e dove sono? me le ha sbloccate però non ho i punti per usarle ovviamente dimmi quale sarà questa coprice l'elemento vento determina mi fa piacere astrale sono queste qui con le stelle presumo mi piace proprio di sì comunque sono felice che sia andata così adesso cosa mi devo fare qua c'ho questa qua cosa potrò mai fare con questo punto vedete che serviva qualcosa in basso però finché ne abbiamo uno non possiamo e quindi niente qua non ci serve niente beh io direi che siamo a posto diamo un po' qui un punto solo dai carica anima così siamo a posto nient'altro siamo a posto abbiamo fatto tutto 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 le missioni sì mi manca solo quei due codama che sono qua mi sono già persi dove cacchio erano? mi sono persi i codamucci qui sono otto li ho persi tutti adesso lo trovo è promesso che lo trovo ma che cazzo li ho persi ah a parte che manca questa che non avevo visto ovviamente perché sono sbadato ma non trovo l'altro codama che siamo qui ah qua ok ne servono due non addirittura non uno li abbiamo persi di livello 75 eh sarà un altro sarà un altro boss porca miseria io non posso farci 135.000 vediamo cosa abbiamo va allora vediamo quanto ci vuole per livellare perché ci vogliono 225.000 ci vuole ancora 80.000 circa 90.000 dove li trovo 90.000 me li vado a comprare al mercato porca miseria allora vediamo un po' cosa c'è qui di nuovo così ci troviamo delle balle perché niente di che eh non lo so dove trovarli parla di nobile di steak vediamo un pochino 4 2 oh abbiamo questa la 50.000 ah ma allora ce la facciamo perché 250.000 vediamo ok 20 40 proviamo a usare le due mi sono dimenticato quanto ne servivano porca miseria andiamo sì ce la facciamo ce la facciamo 220 proprio preciso preciso ah oddio se l'ho dato qui cosa ci dà quasi niente qui cosa ci dà aggiudicato così almeno se moriamo e ce ne fotiamo qualche remission ecco qua andiamo pure a far questa che probabilmente non ci riuscirò però ci provo questa assomiglia molto al quello dei due cani che ci davano nel primo nel primo scenario che combattavamo contro il signorotto è infatti questa l'arena le hanno reciclato un sacco di e si qui si passava è uguale ecco e lui ha detto il culo come l'altro esattamente come l'altro non ha cambiato niente porca miseria è super mega veloce in questa arena c'è sempre gente veloce eh ormai una volta che ok ci fosse qualcuno un po' più che io più lento vai ok a meno questo non c'ha il ki infinito vai ma non è proprio andata come volevo è lento abbazzata la sua abilità io pensavo partisse prima eh che cavolo cioè ma possibile che ci one shotano tutti cioè siamo così chiavi scusate voglio provare si è posizionato prima magari funziona anche adesso non ce li vero mai ci sono arrivato ma con per il cazzo vabbè magari se lo lo cavi faccevi anche un piacere ok curiamoci un po' un scemo sì sì arrivo io guarda si fa così che che vortice d'onore ok valaki qualche misera siamo una volta due tocca a me tocca a me a volte anche tre per carità però eh ci non vedo l'abilità una volta non la posso bloccare non è difficile è solo una palla ok perfetto beh è già vinta mamma mia sei stata deludente ok a posto mi ha fatto che questa dai insomma ok sei più forte mi hai dato del vecchio insomma ok è stato un piaciore sì insomma cosa c'era non c'è niente c'è una mela se lo vuoi ci diti ok lascerò la missione e vabbè è fatta anche questa meglio così insomma dai alla seconda sì perché cavolo devo vedere almeno un'abilità una volta ok anche questa è andata mamma mia codamma vediamo cosa si dicono voglio vedere una cosa santuario fai offerta e ricevi la benedizione ne abbiamo esatto mancano solo quei due perché erano 25 quindi ne abbiamo 23 sinceramente adesso non ho voglio di fare quel scenario perché è molto pesante cosa ah spirito guardiano grazie che me l'hai ricordato santuario spirito guardiano l'ultimo è questi questi due sono cosmo favore due teste che chi più 80 comunque comincia a essere bella la cosa so che a me mi interessa più brutto perché ho il contattaco che ormai sono abituato a quello l'espetto il feroce non li so usare effetto elementare esteso non ho elementare ma proprio non mi ha mai trovato a me non mi sono mai accorto di aver trovato un'arma elementale i rai kiri che c'era nel luna era così bella vabbè che era una spada normale però insomma adesso i cosmo favone tutti questi qui li togliamo dalle palle e siamo a posto leggo il personaggio di nuovo aspettate che palle se mi facesse vedere quello direttamente nuovo io non devo ogni volta switchare tutti quanti ok perfetto capanna visita e c'è il cosmo favone e siamo a posto allora andiamo nella zona nuova e poi dai lo farò tanto ve lo faccio vedere dove sono vi preoccupate andiamo Ah, che ha detto che era un figlio di ricche? Oh! Che! Che fai笑are? Che fai笑are? Eh, è vero? Ma è un'allucinazione oppure no? Chi lo sa? Bene Ok Wow Sì, diciamo che noi siamo tutti i nostri del loro. Ma qui è venuto, i nostri amici si sono riusciti, e quindi si è venuto a l'Odda. Bene, siamo sempre noi per l'angolo della bilancia, insomma l'angolo della bilancia, non l'angolo, l'angolo. Ok, e quindi noi dobbiamo affrontare tre eserci, per fare una cosa giusta, dai. Ok, wow, il livello consigliato è cinque spade, il livello massimo, ci saranno dei grattacapi parecchio pesanti, vabbè, proviamo lo stesso. Qui ci vogliono 9 Kodama e non mi scegliamo quante cazzo me li trovi, alba, vabbè, spegniamo bene, facciamo le dita. Speriamo che sia uno scenario abbastanza tranquillo, eh, detta grossa, eh. Dai, forza, ok, ce l'ho fatta. Oh, guerra aperta. Ma questo è quello che abbiamo commettuto l'uno. Oh, grazie. Oh, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma insomma, tu cosa mi dici? Pensavo mi dissi qualcosa. Ok, vediamo un po'. Oddio. Lo spirito guardiano. Ovviamente non abbiamo più bonus perché è la nuova zona. Allora, spirito guardiano. L'ultimo questo dovrebbe essere. O è quest'altro. E questo, ed è nostro, fa anche 18, mi fa anche piacere, 18 come va bene, anche questo faceva 18, per carità. Vediamo un po'. Allora, bonus danno a britta. Danno a britta, yokai brutto, più 18. Che cazzo è questo? Aumento i danni infatti quando esegui un'ambilità yokai in forma brutta. Cura, alterazioni di stato. Ok? Cari cari ma critico. Non ha niente di che, né l'uno né l'altro, quindi io prenderei questo. Ma ciò, possiamo anche non prenderlo. Danno un bonus danno, tanto più o meno. Non hanno né l'uno né l'altro, sono tutti due 18, quindi non me ne faccio un cazzo, lo stesso. Pas in sa. Amen. E niente, siamo. Vediamo giusto due secondi, poi ci salutiamo. Mamma mia quanta roba c'è. Qui, allora, qui si può andare, si è che si può andare. Ovviamente non si può andare perché si apre da un altro lato. E si apre sempre tutto dall'altro lato, porca miseria. Vediamo qua. E qui si va. Ma perché mi fanno il dungeon sempre che si va da 50.000 parti e io mi perdo sempre per andarci? Allora, andiamo un po'. Perfetto. Dimmi che questa è una scorciatoia. Perfetto, almeno così so che devo andare solo lì e sono a posto. Non chiediamo aiuto perché dovremmo farci. Ce l'ha già fatto prendere un colpo. Accidenti a te. Ok. Voglia, vacca. Ci sei stato... Che c'hai? Un mitra? C'hai? Due pistole? C'hai? Che c'hai? Troppa gente, troppa gente. Vai. Perfetto. Ah, ma adesso tocca a me, eh? Vai così. Piano piano ci fa tutto. Andami qua. Grazie. Molto gentilo. Molto gentilo. Cosa c'è di qua? Guardiamo bene. Io non voglio fare... Non voglio perdere i kodama, dicevo. Allora, qui si va e qui c'è uno. Ovviamente l'ho massacrato. Non ce l'ha aspettato e quindi si... Oh, ho capito dove sono. Ho capito dove sono. Siamo all'inizio. Perfetto. Ottimo. Vi dobbiamo fare qua. E a posto. Dai, ci salutiamo. Quindi siamo proprio a due passi. Quindi ragazzi, come al solito vi invito. Ciao. Like e commento se vi piace la serie di farmi sapere cosa ne pensate. Poi da s'è di sò d'ossi, beh. Ciao.